insomma è un po' mista la festa della mamma senza i propri bimbi vicini è un po' strana questa giornata però ci sono le rondini che mi comportano, le nuvole così non mi danno neanche fastidio e allora la bimba mi ha detto che il pacco che era arrivato in settimana quello in realtà non è roba sua perché veicola qua tutti i suoi acquisti ovviamente essendo fuori casa tutto il giorno quasi e quindi prima o poi tanto se li viene a ritirare qua a casa e qui allora non è una roba sua che è arrivata un bel po' di tempo fa, un po' di giorni fa ha detto che era il mio pensierino per la festa della mamma mi ha fatto vedere un bel mazzo di fiori che era pronto da portare alla mammina ci è rimasta proprio male la Camilla, poveraccio intanto arriva a sentire sua mamma sgrunta di prima mattina io non so che risvegli doloranti questi e allora cosa ho fatto? mi sono preparata qua un po' del fragolino vino di fragola proprio, vino con fragole che ogni tanto porta a casa Camilla c'è la Roselina della Paolina c'è quello che ho avanzato della mia del gâteau de Savoy e quindi adesso preparo la crocco così vi può vedere insieme adesso vediamo insieme, apriamo insieme un pacchetto poi ora vediamo insieme a tutti i tempi allora vediamo insieme a tutti i tempi